Previsioni meteo per giovedì 28 dicembre, al nord coperto con pioggia sulle regioni orientali nevicate oltre i mille metri. Al centro piogge sul Lazio, Toscana e Umbria, precipitazioni nevose sull'arco appenninico, sole sulle zone orientali della Sardegna. Al sud soleggiato sulla Puglia, coperto sulla Sicilia con piogge nelle zone centrali. Venti moderati da sud sud-ovest. Mari quasi calmi o poco mossi. Temperature stazionarie.